E' arrivato, 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 e' arrivato. Allora ragazzi bentornati ad un nuovo video e soprattutto bentornati ad un nuovo Vlogmas. Questo pacco io lo stavo aspettando come il pane, sono sfatto, sono appena tornato da lavoro, però ho detto resisto, voglio aprirlo in camera. Se siete stati attenti sapete già cosa contiene, anzi se avete capito cosa c'è nel pacco avete 3 secondi per scriverlo nei commenti perché io non resisto. E' adesso lo apro, però io lo apro adesso, voi non avete fretta, quindi mentre io lo apro vi invito ad iscrivervi al canale, questa cosa molto minacciosa, vi invito ad iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram, controllare i gruppi Telegram che trovate in descrizione, soprattutto guardare questo video qui perché anche se non lo sapete, se siete qui per la prima volta guardando questo Vlogmas e partecipando a questo Vlogmas, state partecipando al contest più grande del canale. Io devo fare attenzione a far sventolare sto coso, però guardate il video qui, capite tutte le istruzioni, potreste vincere un regalo di Natale da parte mia. Ok, mi perdonerete se la qualità non è il massimo, però non avevo la videocamerina carica, ho dovuto usare un altro telefono, tra l'altro neanche il mio perché anche quello era scarico. Apriamo, devo cercare di aprirlo in modo da non danneggiare il contenuto e soprattutto in modo da non farvi vedere l'indirizzo che sarà molto problematico. Ah, ecco qua. Vediamo se riesco a tagliare tutto così. Spacca tutto Mario, spacca tutto. Sapete che c'è? Olè! Olè! Ok, c'è un pacco nel pacco, speriamo che non ci sia un pacco nel pacco nel pacco nel pacco perché altrimenti inizierei a sospettare di pacco. Non scherzo, è una battuta, sono abbastanza fiducioso. Ero talmente fiducioso di questo pacco che ho pagato con Paypal amici e familiari, quindi vi lascio immaginare il grado di fiducia. Già lo vedo, già mi sembra. Bellissimo. Che cosa vi sembra? Avete capito? Iniziate a capire? Lo voglio tirare fuori molto delicatamente. Cosa che non si dice mai ad una ragazza ubriaca perché altrimenti sono molestie. Vedete, facciamo anche educazione civica e sessuale qui. Eh? Ma che bello è! Che bello è! Devo levare un po' di polvere ma che bello è! Se vi ricordate è il Game Boy Color che mi ha inviato David, il ragazzo di Desenzano del Garda. E questo è quello che è tornato. Stupendo. Ci metto subito le pile perché voglio vedere che effetto fa con il display a colori. Intanto che io recupero delle pile voi godetevi lo spacchettamento del calendario dell'avvento. Grazie a tutti. Eccoci qua. Trovato le pile. Inseriamo le pile. Che bello è bianco. Molto meglio che in foto. Eccolo qua. Io direi, visto che il momento è solenne e ci mettiamo la mia copia di Pokémon rosso. Ecco, ero talmente emozionato che avevo cominciato a parlare con il microfono staccato. Scusate. Ma sono cotto perché sono appena tornato da lavoro e sono super emozionato per questa roba. E godiamocelo assieme. E godiamocelo assieme. Bellissimo. Veramente bello. E oltre a cambiare la luminosità, posso cambiare la palette cromatica. Ma io prenderei un gioco per il Game Boy Color a questo punto. Direi che Super Mario Bros. va bene per l'occasione. Bellissimo. Davvero, davvero stupendo. Ragazzi, io vi lascio qui perché voglio andare a giocare. E vi lascio in descrizione la pagina Instagram e il negozio di David dal quale ho acquistato questo fantastico Game Boy. E spero vi piaccia. Io sono felicissimo. Questo qui era il mio regalo di Natale che mi sono fatto. Davvero, davvero bello. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.